Ha chiuso i battenti il calciomercato in Serie D, una delle sessioni più divertenti di sempre. Ora spazio ai tesseramenti degli svincolati e dal 2 gennaio dai club professionistici. Protagonista delle ultime 24 ore su tutte, Brindisi e Casarano. I primi hanno ufficializzato gli arrivi dell'attaccante Ciro Favetta dalla Casertana, da sempre una primissima scelta per i dirigenti biancazzurri, e del centrocampista della Mezzia ex Cerignola, Dario Maltese. I secondi invece hanno risposto con un trist di tutto rispetto Nicola Citro, esperto attaccante in arrivo dalla Pistoiese, trattativa che si è riaperta all'improvviso proprio ieri mattina, Gianmarco Monaco, centrocampista classe 96, giunto dal Lavello, e Ciro Cipolletta, difensore classe 96, prelevato dal Grosseto. Ora si punta l'ex Taranto Antonio Granata, attualmente svincolato per la difesa. È durata poco l'avventura di Bubacar Culibali con la maglia della Fragolese, il 22enne attaccante Italo Maliano ripartirà dal Sona. A Fragolese che ingaggia però Andrea, tiripicchio ex Crotone dal Grosseto. Porte girevoli nel Molfetta Calcio, i biancorossi ufficializzano l'arrivo di Gian Vincenzo Martino, centrocampista classe 97, con importanti esperienze in Serie D. Arriva anche un rinforzo under in porta, si tratta di Francesco Tricarico, proveniente dal Nola, in passato al Barlette e al Cerignola. Per le uscite, Alessandro Pinto Under si accasa al Nardò, Calvanese alla Putiolan e l'attaccante Leonetti al Monte Giorgio. L'Altamura ha fatto un ultimo disperato, ma inutile, tentativo per Andrea Basagnisi della Nocerina. Muse Canote è stato ceduto al Trapani. Il Bitonto ha chiuso l'accordo con l'attaccante Gaston Corrado, ex Matera e Brindisi. Il difensore Alessandro Maness, invece, è un nuovo giocatore del Gravina, difensore centrale classe 94 e cresciuto tra Fiorentina e Siena. Quest'anno 13 presenze in campionato con il Paternò.